Gli esercizi da svolgere per grammatica sono gli esercizi che vanno dal 27 al 33 a pagina 363-364, vi studiate bene la sintesi visiva di pagina 365 e di pagina 366, poi fate anche gli esercizi di sintesi per consolidare le competenze, vi consiglio di farli tutti da pagina 367 a pagina 371, soprattutto l'esercizio 52 delle prove in valci, perché se non riusciamo a fare quest'anno voi comunque dovete essere preparati, vi consiglio di farli divisi nella settimana, non c'è bisogno di farli tutti il primo giorno, li fate pian piano, poi come vi ho detto la scorsa settimana, vi metterò in didattica le soluzioni degli esercizi. Dal momento che questa settimana molto probabilmente faremo anche una lezione didattica online in diretta, potete anche chiedervi dei chiarimenti su questo argomento e sugli esercizi fatti per generenze da fare in diretta, d'accordo? A presto!